C'era anche il Presidente della Provincia d'Imperio, oggi presso la Sala 20 dell'Hotel Quirinale in via nazionale, alla manifestazione del Partito Socialista Italiano. L'occasione è stata la presentazione delle proposte dei socialisti per la manovrina da 3.4 miliardi. Convocato anche il Consiglio Nazionale, eletto all'ultimo congresso di Roma, che ha confermato Riccardo Nencini, segretario del Partito. La Sisi ha poi eletto la nuova direzione nazionale del Partito. A Roma, per il Consiglio e la Direzione Nazionale PSI avanti Liguria, il convento dalla capitale di Fabio Natta. Tra le misure avanzate da PSI, quella di un finanziamento straordinario per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, visto che sono oltre 600.000 le famiglie che hanno fatto richiesta di un alloggio e le liste di attesa sono lunghissime. Riccardo Nencini ha anche avanzato la proposta di regolamentare le nuove forme di voucher, l'adeguamento della tassazione per le aziende che operano in Italia come Uber e Apple, la defiscalizzazione per le aziende che assumono lavoratori.